Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo una ricetta medievale prima, una deliziosa e aromatica sopra di pezzi di rosa. Iniziamo con gli ingredienti, necessitiamo di rosa, grape, garum, parleremo dopo, vino rosso, un po' di pane, pezzi di rosa e le spezie, pezzi di rosa e l'olio, e poi le erbe fresche, menta e oregano. Come alternativa, potete usare erbe aromatiche di rosa e avrete un piatto delizioso in grado. Prima ricordiamo nel mortaio, pezzi di rosa e l'olio, e poi aggiungiamo un po' di pezzi di rosa. Questa ricetta è stata scritta alla fine del V secolo o nella prima parte del VI secolo, durante l'Italia gotica. Per l'autore, conosciamo proprio il nome suo, Vinidarius. Scolari supposano essere un goto. Il suo po' ricetta è arrivato alla fine di solo un manuscrito del Reco Quinaria, ricetta di ricetta di Apiccius. Le metodi di vinidarius e la scelta di ingredienti sono chiaramente inspirati da Apiccius e la cucina romana. Le metodi di vinidarius e l'oregano. Questo passaggio aiuterà a riposarli nel mortaio. Aggiungiamo le erbe fresche nel mortaio e riposiamo. L'autore suggerisce questa ricetta per i pezzi di rosa, i pezzi di rosa e i pezzi di rosa, ma questa ricetta è perfetta per ogni tipo di pezzi. Seguendo la tradizione antica romana, i pezzi di rosa è ancora considerati, in questo periodo, più prezzi che i pezzi di rosa. Sono considerati più apti per i pezzi di rosa. Ora pressiamo alcuni pezzi di rosa. La ricetta originale usa il jus di rosa concentrato, chiamato frittum o frutum in latino. Usiamo direttamente il jus di rosa di rosa invece di frittum. Si concentrano durante la cucina comunque. Aggiungiamo nel mortaio il jus di rosa, un po' di onè, garum, vino seco di rosa, e mixiamo. Garum era una salsa di pezzi di rosa mediterraneo. Ci sono alcune strade storiche che descrivano la produzione di passo a passo. È fatto con pezzi e salto, e a volte con spezie e erbe aromatiche. Alcuni tipi di garum sono stati prodotti in stile come i pezzi di rosa di rosa di rosa. Oggi ci sono alcuni prodotti di garum. Se non lo trovate, puoi usare una salsa di asia sud-est e una salsa di pezzi di rosa per sostituirla, o aggiungere un po' di salto. Dopo scegliere e scalare i pezzi di rosa, lo mettiamo in una pancia e mettiamo il liquido. Il pezzi deve coprire i pezzi durante la cucina. Se non è sufficiente, aggiungiamo un po' di acqua. Sceglieremo i pezzi di rosa per un po' di più di 10 minuti, ma il tempo di cottura cambia per i pezzi più grandi o più piccoli. Il pezzi di pezzi di aromatica e fragrante è un modo perfetto di provare i sapori di un banquete medievale e esperiense la continuità di tradizioni di cucinaia in alto, tra l'inizio dell'impio antico romano e l'inizio del medioevo. Se siete interessati in alimenti e sapori antici, o siete solo cercando delle ricette inusuali e deliziosi, grazie a tutti!